Un disegno di legge che cambierà la geografia della Sicilia. Un disegno di legge che, dopo quasi due secoli di rivendicazioni popolari, permetterà a Gela di staccarsi dall'ambito provinciale di Caltanissetta per passare con l'area metropolitana di Catania. Un disegno di legge che ora ha davvero un solo passaggio da definire per essere operativo, ossia il voto a maggioranza dell'Assemblea regionale siciliana. Dopodiché Gela, ma anche Niscemi e Piazza Armerina, si staccheranno dalle loro rispettive ex-provincie e passeranno sotto la stessa egida, creando nella fattispecie una sub-area unica. Con la stessa linea socio-economica, a fare in modo che Gela, Niscemi e Piazza Armerina appunto rappresentino una stessa entità più vasta. Il sogno, da questo punto di vista, è oramai ad un passo da realizzarsi. Magari non sarà quello per cui ci si è battuti per tanti anni, ossia un libero consorzio di comuni con Gela a capofila, ma le aberrazioni politiche e regionali hanno portato a violentare una legge che era stata generata con ben altre impostazioni. Della serie, questi sono i limiti della legge e su queste pieghe ci si è dovuti muovere. Per questo motivo, il risultato che si sta per ottenere è obiettivamente il massimo. Se ne è parlato ieri sera ad Agorà, il rotocalco settimanale della nostra emittente ha innescato il dibattito, come al solito, facendo parlare le voci del contraddittorio, ossia coloro che, pur riconoscendo la storpiatura della legge rispetto alle sue iniziali aspettative, ne ha valorizzato i significati pratici e chi invece continua a sostenere che era meglio restare con Caltanissetta. In questo caso, a sostenere questa tesi contraria è stato il deputato regionale di Forza Italia, Pino Federico, che è anche stato l'ultimo presidente della storia della provincia regionale di Caltanissetta. Il politico gelese, anche dagli studi di Agorà, ha continuato a sostenere che il passaggio di Gela con Catania è un mero salto nel buio e che, sostanzialmente, la città del Golfo passerà con l'essere l'ultima per importanza di una nuova entità geografica, mentre prima era la seconda, dopo il capoluogo, dell'intera provincia di Caltanissetta. Punti di vista, chiaramente, non condivisi da chi, come Filippo Franzone, presidente storico del Comitato per lo sviluppo dell'area gelese, sostiene, invece, che già il solo fatto di essersi staccati dal gioco del potere nisseno porterà solo benefici al territorio e alla popolazione gelese. Stesse tesi, sostenute anche dai presidenti dei Comitati di Niscemi, rappresentato dal professor Gaetano Buccheri, e di Piazza Armerina, presente in studio con il suo presidente Salvatore Murella. «Scappiamo a gambe levate da Caltanissetta per passare con Gela», ha detto il rappresentante di Niscemi. «Dopo due secoli torniamo a casa con Gela e Niscemi», ha invece aggiunto il componente del Comitato di Piazza Armerina. Pensieri e volontà condivise, insomma. A completare il parterre degli ospiti, l'assessore alla pianificazione territoriale del Comune di Gela, Francesco Salinitro, ed il presidente dell'Associazione Cifra, Emanuele Antonuzzo. Non è mancata poi l'incisiva scheda di Giulio Cordaro dal titolo «Fuori dal coro». Chi volesse rivedere questa interessante puntata di Agorà potrà farlo con la replica integrale, che andrà in onda domani sera su Canale 10, a partire dalle ore 21, oppure sui nostri indirizzi social, il sito internet tg10.it ed il profilo Facebook di Canale 10. Agorà tornerà in diretta venerdì prossimo in prima serata, come sempre con ospiti ed argomenti che interessano Gela e Digelesi.